L'idea di base è soprattutto semplice e reversibile. Che cosa succede? In pratica il motore della ventolina produce delle vibrazioni. Queste vibrazioni sono scaricate, diciamo, sulla piastra in alluminio dove si appoggia la ventola stessa. Ovviamente, andando a rimuovere le viti e a creare un fissaggio con una spugna, andremo a ridurre quindi le vibrazioni metalliche e a migliorare la silenziosità della scheda. Ovviamente ho lasciato tutti i passi in descrizione, cioè ho lasciato l'articolo nella descrizione di questo video, quindi vi basterà aprire la descrizione di questo video e cliccare sul link stesso. Per qualsiasi dubbio o domanda potete lasciare un commento stesso qui sotto.